Cura, gente di merda, Jack! Allora spazio da Giuseppe, ciao Pino, ti ho scoperto da pochi mesi e subito mi sono piaciuti i tuoi franni del passato e quelli attuali. Ho comprato anche il tuo album Buona Suerte, complimento davvero, spacca. Quando torni a pescare in Abruzzo ti aspettiamo molti e mi farebbe piacere vederti da vivo. Un saluto da Giuseppe. Giuseppe, guarda che veniamo, no, del cara no, veniamo all'Aquila, all'Aquila il mese prossimo veniamo, ti aspetto.